Ciao a tutti! Oh oh, l'audio è salsato. Ci siete cascati? No, non ci siete cascati. Non avevo il giusto mixaggio sonoro. Ecco i candidati di quest'anno per il sound mixing. John Reitz, Greg Rudloff e Walt Martin per American Sniper. John Taylor, Frank E. Montagno e Thomas Varga per Birdman. Gary Arrizzo, Greg Lundeyker e Mark Weingarten per Interstellar. John Taylor, Frank A. Montagno e David Lee per Unbroken. E Craig Mann, Ben Wilkins e Thomas Carley per Whiplash. Anche quest'anno è una gara molto combattuta. O meglio, quest'anno, perché gli anni scorsi era meno combattuta. Quest'anno invece il sound mixing riserva molte sorprese. che riserverà senz'altro. I due grandi favoriti sono Birdman, premiato dai Cinema Audio Society Awards, il sindacato per il mixaggio sonoro, e Whiplash, che ha vinto recentemente ai BAFTA e ai Satellite Awards. Ma le sorprese possono sempre arrivare. Io, come ho detto per gli effetti sonori, io, come ho detto per gli effetti sonori, per il montaggio, per tante altre categorie, per il mio film, IOT for American Sniper. E magari vince, chi lo sa? Incrociamo le dita. Voi chi sperate che vinca, eh? Lasciate i commenti, eh? Ci vediamo dal vostro Alessandro Damiani. È tutto!